Con un piccolo corteo partito dall'aula borsellino del comune San Cataldese i 3 maggio, insieme ad alcuni personaggi come i pastori sono arrivati sino in piazza Papa Giovanni XXIII, lì dove era stata allestita la capanna. Venerdì pomeriggio 6 gennaio, infatti dopo la prima edizione dello scorso anno, svoltasi tra le restrizioni e dunque soltanto attraverso i social, i cittadini di San Cataldo hanno potuto assistere da vicino alla rappresentazione luce da luce l'arrivo dei Maggi, con la regia di Davide Burcheri. Circa 20 le persone tra figuranti e tecnici che hanno preso parte alla narrazione teatrale, un evento promosso dall'amministrazione comunale San Cataldese e realizzato dall'associazione Diamond Event, che così ha anche aperto la stagione teatrale. Si guarda inoltre al passato ricordando la rappresentazione della notte di Natale negli anni Ottanta, quando i figuranti sfilavano dalla chiesa madre per raggiungere la capanna nei pressi del municipio. Cercheremo di riportare a San Cataldo e ai San Cataldesi ciò che veniva messo in scena tempo fa, racconta il regista Davide Burcheri, testi e tradizioni che ormai purtroppo sono state dimenticate. In questo modo vogliamo riprendere e riscrivere alcuni pezzi di storia San Cataldese, aggiunge. Grazie. Grazie.